Ciao, è arrivata l'estate, è arrivato il momento in cui gli impasti corrono, caloppano, ce li perdiamo letteralmente di mano e quindi eccomi a darvi come al solito due consigli, due spiegazioni molto molto semplificate del perché in questo momento i nostri impasti sembrano posseduti da una stranissima velocità. Dunque partite dal presupposto che come abbiamo sempre detto la temperatura ideale perché il nostro impasto, perché il nostro lievito madre e lieviti nel vero senso della parola sono tra i 26 e i 28 gradi. Io non so le vostre case ma nella mia già questa temperatura la fa, ci sono case ancora più calde e vi dico soltanto che nella mia cucina in pieno estate io raggiungo anche i 35 gradi e quindi se volete venire a fare la sauna vi aspetto. Dunque e quindi tornando al discorso che la temperatura ideale per gli impasti è 26-28 gradi vuol dire che quella è la temperatura in cui i lieviti ed i batteri della pasta madre danno il meglio della loro velocità. Ovviamente se siamo abituati ad usare una camera di lievitazione questa velocità non ci spaventerà o comunque magari non ce ne siamo neanche accorti e se invece siamo abituati a tenere l'impasto o la pasta madre, quella che deve essere usata per l'impasto, a temperatura ambiente, quindi avere una temperatura che in inverno è intorno ai 18-20 gradi, in questo momento sembra tutto completamente esploso. e quindi vi do qualche trucco per far rallentare gli impasti e poi qualche consiglio o comunque come aiutarvi a ragionare per i vostri passaggi fuori e dentro dal frigorifero. Il primo trucco che vi posso dare è di usare per il rinfresco e per gli impasti un'acqua abbastanza fredda. Partito dal presupposto che quando voi impastate in piena estate, che sia in fresco o che sia comunque un impasto vero e proprio, state usando una farina che è già a temperatura ambiente, quindi una farina che è già di suo a 26 gradi, magari 27 gradi se siamo in piena estate, quindi la farina è già calda. Se usate l'acqua a temperatura ambiente perché l'avete fatta decantare o perché siete abituati ad avere acqua a temperatura ambiente, anche l'acqua sarà a 26, 24 gradi, 25 gradi, 26 gradi, quindi partiamo anche da una temperatura dell'acqua già più calda. La pasta madre se l'avete fatta raddoppiare a temperatura ambiente è calda anche lei e non è a temperatura ambiente la pasta madre perché la lievitazione stessa innalza la temperatura, quindi la pasta madre, l'interno della pasta madre o comunque di qualsiasi impasto che sta lievitando è 1 o 2 gradi di più rispetto a quella che ha a temperatura ambiente. Quindi questo cosa ci porta a capire che abbiamo tutti ingredienti, tutti elementi che partono minimo da quella che è la temperatura ambiente. E se vi ricordate c'è un articolo del blog in cui vi dico proprio come funzionano le temperature. A seconda che voi impastiate a mano in planetaria nel bimbi così, diciamo che gli impasti aumentano comunque la loro temperatura. E quindi partiamo da ingredienti tutti quanti a 25 gradi, già il fatto che state impastando l'impasto che sia pasta madre, ripeto, che sia un pane, già il momento stesso in cui l'abbiamo terminato di impastare sarà perlomeno già di suo a 28-29 gradi. Quindi già partiamo con un impasto che è già pronto per aggiungere temperature più alte. Allora il trucchetto che possiamo fare per non surriscaldare l'impasto mentre lo stiamo facendo è di usare non acqua a temperatura ambiente ma acqua fredda. Quindi se avete un depuratore in casa, quindi potete usare direttamente l'acqua del rubinetto, usatela fredda. Altrimenti tenete un po' d'acqua nel frigorifero per i vostri impasti. Questo farà sì che voi possiate lavorare tranquillamente senza surriscaldare l'impasto. Quindi usate acqua fredda. Addirittura in piena estate c'è anche chi tiene la farina nel frigorifero per iniziare a lavorare con degli impasti, con degli ingredienti freddi. Quindi questo è il primo trucco che vi posso dare. Il secondo trucco che vi posso dare è di usarlo il frigorifero. Di usarlo non solo per le maturazioni notturne ma di usarlo proprio per rallentare. Quando vedete che un impasto è andato oltre quella che è la temperatura che voi ritenete ideale, andate a freddarlo. Fermatevi e passatelo una mezz'ora nel frigorifero. Vi aiuta a gestirlo meglio e vi aiuta anche a gestire meglio quella che sarà la lievitazione stessa. Altra cosa che vi devo dire è che quando voi in inverno fate il passaggio frigo-forno, quindi un pane che prevede di essere passato nel frigorifero già formato dopo circa due ore, tre ore, a seconda di quella che è la temperatura della vostra cucina, in estate lo dovrete fare quasi subito dopo averlo formato. Perché? Perché voi avete un impasto che ha fatto già tutta la prima lievitazione a temperatura ambiente e quindi è già caldo. È sicuramente l'impasto stesso minimo minimo a 26-27 gradi, 28 anche, nel momento in cui lo formate. Voi non avete un impasto formato e formato a 20 gradi, voi avete un impasto caldo. Quindi siccome il frigorifero, come sapete, continua a crescere fino a che il cuore dell'impasto non raggiunge i 4-5 gradi, una cosa è mettere un impasto in frigorifero che sta a 20 gradi l'impasto e una cosa è metterlo che questo impasto stesso, tutto l'impasto è a 28 gradi. Ci metterà molto più tempo a fermarsi, quindi in quelle ore continuerà a crescere. Se voi aspettate in piena estate, a luglio, agosto, a mettere in frigo un pane per fare frigo-forno e aspettate le stesse ore che aspettate in inverno, quindi quelle 2 ore e mezzo, 3 ore, voi lo trovate la mattina dopo già passato di lievitazione. Quindi potete benissimo in piena estate formarlo e passarlo direttamente nel frigorifero. Questo perché, essendo caldo, continuerà a crescere. La stessa cosa che potete fare con tutti quanti i vostri impasti che avete soltanto in maturazione, quindi anche un impasto che avete in prima lievitazione che vi sembra che stia partendo molto velocemente eppure voi dovete uscire, dovete andare al mare, dovete fare dei giri. Mettetelo nel frigorifero anche solo per farlo rallentare. Quando poi lo tirerete fuori, avrà una temperatura più bassa, avrà rallentato quella che è la sua crescita e voi potrete gestire meglio le lievitazioni. Spero di, e ovviamente ve la dico come ultima cosa, io già ve lo sconsiglio sempre, non fate lievitazioni a temperatura ambiente. Non le fate mai, ovviamente la notte, non le fate mai, non le fate in più, specialmente in questo periodo, perché rischiate la mattina di trovare un disastro. Vi saluto e vi ricordo di seguirmi sulla Pasta Madre Facile su Facebook e sul mio blog Pasticcerapasticciata. Ciao!